Sì! Wow! Ho vinto! Mi è venuta una certa fame! Solitamente Red tiene nel suo cassetto delle caramelle! Ora vado a prendergliene un po'! Non vedo l'ora! Ho tanta fame! Quante caramelle! Dove posso metterle? Le metterò nel vaso? Uh! Lecca-lecca la fragola! Al limone! All'ananas! E non vedo l'ora di mangiarle tutte! Oh! Devo sbrigarmi prima che arrivi Red! Spero non se ne accorca! Ciao Bluff! Che fai? Niente! Allora che cosa hai lì dietro la mano? Fammi vedere! Niente! Dai! Bluff! Fammi vedere! Fatemi! Che cosa? Hai rubato le mie caramelle! Ma Bluff! Cos'hai fatto? Ma davvero hai rubato le mie caramelle? No Red! Io... Vabbè perché non ti volevo... No! 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 Bluff! Hai rubato le mie caramelle! Non si fa! Sono tuo fratello! Ma cosa fai? Basta chiederlo! Ma dai avevo fame! E poi una caramella non succede nulla di che non è così grave! Ma non vuol dire niente! Può essere una, può essere due, può essere tre... Oh Bluff! Non me l'aspettavo da te! È una cosa che non si fa! Adesso ti porterò in prigione! No! È inutile che gridi! Anzi! Prima di portarti in prigione dovrai mettere... Ta-da! La tuta da prigioniero! No! Sì! Menti questo e non fiatare! Ma no Red! Dai! Devo mettermi fuori questo! Sì! E non sbuffare! Ecco sei contento? Sì! Oggi non ho che un canto! Ah che meraviglia! Non vedo l'ora di andare alla festa! Però prima mi sono meritata un buonissimo cioccolatino! Cosa? Qui dentro c'erano un sacco di cioccolatini! E adesso non ci sono più! Sicuramente sarà stato uno dei due gemelli! Ne sono convinta! Vado a chiederglielo! Red ti prego fammi uscire da questa prigione! Non ho fatto niente di male! No 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 no! Chi ha rubato... Ma che cosa sta succedendo qui? Blu! Che cosa ci fai? E dietro le sbarre? Blu ha fatto una cosa che non doveva fare! Ovvero mi ha rubato le caramelle! Eh no 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 no! Qui c'è qualcosa che non va! Qualcuno ha rubato i miei cioccolatini! Sono convinta che è stato uno di voi due! Oh non è colpa mia! Eh in realtà... Oh ragazzi! Un mal di pancia! Un mal di pancia! Non so perché un mal di pancia! Dovrei andare al bagno! No 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 no! Red! Tu rimani qui! E' strano che tu abbia mal di pancia dato che a pranzo abbiamo mangiato solo le verdure! Per caso Red hai mangiato qualche cioccolatino? Veramente? Sì! Che cosa? Sai che ti dico? Adesso andrai in prigione anche tu! No! A me non piace questa storia che siamo tutti e due dentro la prigione! Ah guarda questa non è solo colpa mia anche colpa tua! E' colpa mia! Sei stato tu a rubare le mie caramelle! Ebbè ma tu hai rubato invece i cioccolatini di Aria! E' la stessa cosa no? Quindi ben di sta! Ma che vuol dire? Tu sei stato il primo a entrare nella cella e quindi questa è la tua cella non è la mia! Aria ti prego liberaci! Aria ti prego liberaci! Tu sei zitto! E io e te abbiamo un conto in sospeso! E poi che ci fai vestito così? Sembriamo due zebbre in carcere! Basta ragazzi! Che cos'è questa confusione? C'è solo un modo per uscire di prigione! Dovete affrontare tre sfide! Prima challenge! Prima challenge vincerà il primo che riuscirà a costruire un cerchio con nove pezzi colorati! Siete pronti? A proposito ho tolto un pezzettino a Red perché mi ha rubato i cioccolatini! Se ne accorgerà? Secondo me no! Ecco i pezzettini colorati! Questi sono tuoi blu e questi sono tuoi red! 3, 2, 1, via! Blu non confondiamo i pezzettini tuoi, i tuoi, i miei, i miei! Ah non ci sarà questo pericolo! Io inizio! Io sarò sicuramente più veloce di Red! E anche più bravo! Ma guardate un po' voi che io sono finito dentro una gabbia! Cioè Red! Io! Ma io non posso crederci! Ma perché non si incastra? Ok! Devo essere molto più bravo di Blu! Blu! Ho un problema! A che punto stai? Non mi distrarre! Ma io c'ho un problema Blu! A un attimo! Ascoltami Blu! Guarda! Non ce la faccio! C'è qualcosa che non va! È come se avessi... Come se avessi meno pezzettini! Non è un problema mio! Ma che vuol dire o non è un problema tuo? Blu! Ho meno pezzettini! Qua ho finito! E sì! Ce l'ho fatta! Bravissimo Blu! Blu non mi vuole aiutare! Ma io non pensavo che fosse così cattivello il mio fratellino! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto pezzettini! Oh no! Aria aveva detto che dovevano essere nove pezzettini! Ah! Idea! Una cannuccia! E allora posso fare una cosa! Posso aggiungere la cannuccia qui? Mettere questo qui? E ho completato il mio cerchio! Aria! Ho finito! Bene, sei stato molto intelligente! Ma quella è una cannuccia, non è un tuo vicino! Quindi non vale! Mi dispiace Red! Hai perso! Io ho terminato! Peccato! Avevi detto che un cerchio doveva essere formato da nove pezzettini! E in effetti io ne avevo otto! Quindi mi sono arrangiato! Ho preso la mia cannuccia e... Ta-ta! Ho terminato! Red, mi dispiace ma così non vale! Hai perso! Ma che vuol dire ho perso? Non è giusto! Sì lo so sto ridendo di Red però a me dispiace! È vero io ho dato otto pezzettini invece di nove! Però lui si è comportato male con me! Mi ha rubato i cioccolatini! Poteva chiedermeli! Io glielo avrei dati! Va bene adesso però devo andare e devo spiegare l'altra challenge! Vado! Bene bene! Siete proprio sicuri di voler uscire da questa prigione? Sì! Sì! Ta-da! Seconda sfida! Chi riuscirà a non far cadere la pallina dal cucchiaio vincerà! Ma attenzione! Perché io vi darò delle indicazioni molto molto difficili! Vediamo chi di voi riesce a fare un giro su se stesso! Oh! Oh! Sì! Oh! Bravissimi! Adesso però dovete disegnare una O! Ma non così! Dovete mettervi uno di fronte all'altro! Vai! Oh! Oh no! Sono troppo bravi! Vediamo chi riesce a saltellare su un piede per tre volte! Oh! 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 Ho vinto! Oh sì! Mi dispiace dirlo per i miei cioccolatini! Ma questa sfida l'ha vinta il nostro Red! Amici! Siamo arrivati alla terza challenge! Mi raccomando però! Iscrivetevi al canale per non perdere le nostre avventure! Guardate qui che cosa ho! Una bellissima e soprattutto gigante scatola! All'interno ci stanno un sacco di cose... Oh! Anche un po' puzzolenti! Il primo che troverà la chiave qui dentro potrà uscire di prigione! Io però devo trovare un modo per... Per portargli la scatola là dentro! Non entrerò mai! No! Assolutamente no! Ammetti caso! Si chiude la porta! Rimaniamo lì dentro tutti quanti! Per sempre! E no no no! Devo trovare un modo! Ragazzi! Siete pronti? Alzate le vostre mani! Oh! Oh! Hai visto Blu? Iniziamo! Apro io! No! Apro io! Apro io! Apro io! Apro io! Apri tu! Apri tu! No! Apri tu! Apri tu! Ok! Apro io insieme! Oh! Basta dirette! Ah! Blu! Dai! Fammi cercare! Fammi spazio! Dai! Dai! Ti prego! Ricordati che sono tuo fratello! Gemello! Ricordati che mi hai imprigionato! Ricordati che mi hai rubato le caramelle! Trovata! Wow! No! Questa l'ho trovata io e la uso io! È blu! E' bebe! No! E' bebe! Mi hai! 、 che'n sii è! E' bebe! E' bebe! E' bebe! Un'altra cosa! E' bebe! E' bebe! E' bebe!